Mi sentivo una ruota di un meccanismo, specialmente quando si lavorava per Fiat Olivetti e quindi eri una persona su migliaia e il lavoro che facete non era un gran che considerato, chiunque avrebbe potuto farlo e quindi probabilmente per contrasto ho cercato di fare una cosa che se facevo bene era merito mio, se sbagliavo era colpa mia, però ho cercato di cambiare le carte in tavola diciamo. Grazie a tutti.